Bruninho in battuta, va l'ex palleggiatore di Modena, alza il pallone senza forzare il 14, allora Leo riceve il primo tempo, no, vabbè dai, Accademia Argentina, Luciano De Cecco, questo era un primo tempo scritto, hanno ingannato anche me, 10 Perugia, 16-9, chi l'ha fatto il punto? Pippo Lanza, pinta di primo tempo da parte del podcast, buca dal nulla, coperta dalla mole di Marco Podraskarin, Pippo Lanza, che schiaccia senza problemi.